E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali gravissime un giovane di 27 anni che il 9 aprile scorso ha trafitto con un punteruolo l'occhio di un cinquantenne provocandogli danni irreparabili. Nei suoi confronti il GIP presso il tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura che è stata eseguita dai carabinieri. Quel pomeriggio la vittima sarebbe stata fermata con un pretesto da un altro individuo in via Orazio Flacco al rione Commenda. Ne sarebbe nata una collutazione. A un certo punto sarebbe intervenuto il 27enne che ha colpito la vittima con un punteruolo a un occhio. Il cinquantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino dove è stato sottoposto intervento chirurgico d'urgenza per tentare di salvargli l'occhio ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini dei carabinieri sono partite immediatamente sulla base di alcune testimonianze grazie alla presenza di impianti di videosorveglianza e alla successiva confessione dello stesso soggetto indagato il cerchio è stato chiuso. Il giovane è ora nella casa circondariale di Viappia in attesa dell'interrogatorio di garanzia.